Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Il continente di The Witcher abbonda di creature mostruose, letali e temibili, vestie capaci di sbranare un essere umano senza difficoltà. Fu proprio per la presenza dei mostri che vennero creati i Witcher, ma oggi i protagonisti di questo video non sono loro, bensì le creature più pericolose dell'universo dello strigo. Nel video troverete creature provenienti soprattutto dall'universo videoludico e dei romanzi. La serie targata Netflix per ora non ci ha mostrato tantissimi mostri. Il mondo di The Witcher è spesso sconvolto da guerre e battaglie. I regni del nord non lesinano nel farsi guerra tra di loro, per non parlare delle campagne di espansione dell'impero di Nilfgaard o delle contese tra clan delle isole schellige. Questo stato di guerra semi-permanente agevola la proliferazione di tutte quelle creature che possiamo racchiudere nella categoria necrofagi, ossia appunto i divoratori di cadaveri. Ghul, Al Ghul, streghe dei sepolcri, streghe delle paludi, scarvers, foglet, droner e altri ancora, sono bestie feroci e temibili, che non disdegnano di attaccare anche prede ancora in vita. La loro comparsa in massa può portare alla scomparsa di interi villaggi. Tuttavia, un Witcher capace e ben equipaggiato non ha problemi a gestire queste bestie, che non posseggono particolari abilità a parte la loro ferocia. Una minaccia ben più seria è rappresentata dalle creature insettoidi, animali capaci di riprodursi in grandi quantità e soprattutto in grande velocità. Gli insettoidi sono piuttosto diversificati e popolano vaste aree del continente. Gli Aracas sono un incrocio tra dei ragni e dei crostacei, ne esistono anche varianti particolarmente velenose. Tra gli insettoidi troviamo anche semplici ragni di dimensioni extra large e le scolopendri giganti, le cui mascelle sono in grado di spezzare le ossa senza difficoltà, oltre a sputare una letale tossina. Alcuni insettoidi vivono in alveari organizzati, un po' come le formiche o le termiti terrestri. Tra esse troviamo le indriaghe, divise in droni, guerrieri simili a grossi scorpioni, e lavoratori. Sono sociali anche le chichimore, insettoidi corazzati dotati di spine e artigli capaci di fare a brandelli le prede, o chiunque minacci, le loro colonie. Le chichimore sono solite scavare tunnel sotterranei, dove vengono poi deposte le uova. Ciò le rende particolarmente tenute dai minatori. Eradicare la presenza di colonie e di insettoidi non è un compito da dilettanti. Il loro numero e la loro organizzazione richiedono la presenza di un witcher esperto e dotato di pozioni e antidoti specifici. Personalmente non vorrei mai avere a che fare con un insetto o aracnide gigante lungo un paio di metri. Nel nostro bestiario delle creature più pericolose del continente non potevano mancare gli ogroidi, ossia tutti quei mostri che si possono raccogliere nella famiglia degli orchi. Alcuni di essi sono piccoli e temibili, altri invece sono possenti ed estremamente forti. I necker sono degli esseri di piccole dimensioni che vivono in colonie ben organizzate. Puntando sul fattore numerico e sui loro affilati artigli, i necker possono facilmente avere la meglio su un essere umano. I troll, pur non brillando per intelligenza e arguzia, sono creature pericolose, anche in virtù della loro corazza rocciosa che avvolge i corpi. Con i troll si può anche tentare di ragionare, non sempre attaccano per mera ferocia, quindi beh, la loro pericolosità non è sempre estrema. Ben più pericolosi sono invece i ciclopi e i rari giganti del ghiaccio, bestie alte diversi metri e capaci di utilizzare utensili e strumenti. Questi giganti possono devastare un villaggio nell'arco di una notte, facendo strage degli abitanti. Pur non possedendo grandi abilità oltre alla mera forza bruta, ciclopi e giganti sono una minaccia da non sottovalutare. Lasciamo gli insetti del terrore e i colossi urlanti per passare a creature tanto affascinanti quanto estremamente pericolose. I draconidi. I draghi, in senso stretto, sono ormai una specie molto rara nel continente di The Witcher, magari ne riparleremo in un video ad hoc. Mentre i draconidi popolano ancora vaste aree e predano bestiame, animali selvatici e anche esseri umani. Tra di essi troviamo i basilischi, i quali sono anche velenosi, le cocatrici, simili a grossi galli, le viverne, anch'esse velenose, i coda biforca e altri ancora. I draconidi sono tutti abili volatori, ciò gli consente di adottare una tecnica di caccia basata su agguati condotti dall'alto, piombando con forza e precisione sulle prede. È facile pensare che anche i grifoni e gli arcigrifoni appartengano alla vasta famiglia dei draconidi, ma così non è. Gli grifoni sono creature ibride, che uniscono caratteristiche da mammifero con elementi da draconide e da uccello. Del resto, anche nel nostro folclore, il grifone è un mostro chimerico. I grifoni sono predatori molto molto pericolosi, anch'essi sfruttano le doti di volo per gettarsi sulla preda dall'alto, non lasciandole scampo. I forti artigli dei grifoni infliggono ferite profonde. I grifoni sono attratti dalle prede facili, come tutti i predatori del resto. Ciò li può spingere nei pressi dei villaggi e insediamenti, dove non disdegnano di germire contadini e viandanti. Affrontare un grifone o un draconide richiede abilità di combattimento, padronanza dei segni magici e una buona dose di fortuna. Riportare feriti letali è un rischio concreto, anche per un Witcher addestrato e preparato. Ci stiamo avvicinando alle categorie di mostri più pericolosi dell'universo di The Witcher. Per ora abbiamo analizzato creature tutto sommato animalesche e dotate di abilità naturali. Ora è giunto il momento di trattare due categorie che invece posseggono caratteristiche sovrannaturali, ossia gli antichi e i vampiri. Chi sono gli antichi? Sotto questa denominazione troviamo una serie di creature che, come suggerisce il nome, risalgono a tempi remotissimi. I mostri che incontriamo in The Witcher giunsero sul continente a seguito della congiunzione delle sfere, un allineamento tra vari mondi che avvenne migliaia di anni prima degli eventi della saga. Tra gli antichi troviamo i demoni e i chorts, bestie di grandi dimensioni simili a cervi o mufloni mostruosi sotto steroidi. Queste bestie sono particolarmente feroci e territoriali, tanto da lottare tra loro per il controllo delle zone di caccia. Ancora più temibili dei demoni sono i Leshen e gli affini Spriggans. I Leshen sono creature inquietanti e ammantate da una potente aura sovrannaturale. Il loro alto corpo è composto da legno, muschio e corteccia. La testa, invece, è costituita da un teschio di cervo dotato di un grande palco di corna. I Leshen posseggono anche lunghi artigli perfetti per lacerare la carne. Come se non bastasse, i Leshen possono utilizzare la magia per controllare le piante e gli animali delle foreste, come lupi e corvi. I Leshen popolano le foreste più remote del continente e sono creature fortemente territoriali. Ciò li porta ad uccidere gli intrusi che si avventurano incautamente nei loro territori. I Leshen sono creature sfuggenti. Individuarli nel fitto della foresta è quasi impossibile. Per questa ragione sono abili nel tendere in boscate. Gli Spriggans sono considerati un sottotipo di Leshen. Il loro aspetto fisico è un po' differente, visto che posseggono una sorta di volto umanoide fatto di legno al posto del teschio di cervo. Anche gli Spriggans difendono il loro territorio, non tollerando intrusi nei pressi delle loro tane. In sintesi, Leshen e Spriggans non attaccano gli esseri umani per ragioni di alimentazione, bensì appunto per difesa territoriale. Se ci si imbatte in un Leshen, le speranze di sopravvivenza sono davvero minime. Chiamare un Witcher è l'unica soluzione possibile. Concludiamo il nostro viaggio tra i pericoli del continente con una disamina dei vampiri. I vampiri di The Witcher si possono dividere in due categorie. Quelli ferini e bestiali e quelli invece molto più potenti e intelligenti, i cosiddetti vampiri superiori. Nella prima categoria rientrano le Bruxe e le Alp. Queste temibili creature hanno le sembianze di una giovane donna e usano il loro aspetto fisico per attirare le ignare prede di cui bramano il sangue. Quando attaccano le Bruxe e le Alp, sfoderano lunghi artigli e denti aguzzi, idonei per fare a pezzi la preda. Questi vampiri sono molto veloci. In The Witcher 3 posseggono anche l'abilità di diventare invisibili. Se Bruxe e Alp mascherano le loro sembianze dietro un aspetto da essere umano, altri vampiri come i Katakan, i Fleders, i Garkain e le Kimore posseggono un aspetto totalmente mostruoso, riconducibile ai tratti stereotipati dei pipistrelli e non solo. Nel continente sono sorte varie leggende su come uccidere un vampiro, un po' come nelle tradizioni del nostro mondo, tuttavia l'unico rimedio efficace è sempre il solito, assoldare un Witcher e lasciar fare a lui. Scontrarsi con un vampiro significa affrontare un combattimento duro contro un avversario intelligente e feroce. Agli strighi è consigliata l'assunzione di pozioni specifiche per rendere il loro sangue tossico. I vampiri superiori, come il celebre Regis, personaggio presente sia nei romanzi che nei videogiochi, sfoggiano di solito un aspetto del tutto umano, salvo poi potersi trasformare in pipistrelli giganti o altre forme vampiresche. I vampiri superiori sono eterni, però possono essere uccisi. Nei videogiochi si crea un po' di confusione sulla mortalità dei vampiri superiori. A regola, solo un altro vampiro superiore può uccidere un membro della sua specie. Nemmeno un Witcher può farlo, in quanto le ferite del vampiro si rimarginerebbero. Neanche bruciare il corpo garantisce la morte definitiva di un vampiro superiore. Ad ogni modo, i vampiri superiori non possono essere considerati dei mostri nel senso stretto del termine. Essi provano emozioni come amore, odio e compassione. Non sono delle bestie come i Garkain, Katakan, eccetera. Ciò non toglie che siano estremamente pericolosi. Questo breve bestiario delle creature mostrose di The Witcher giunge così al termine. Credo che alcuni avranno notato l'assenza di alcune creature come Wraith, Licantropi, Strigi, Jinn, eccetera. Queste creature hanno a che fare con le maledizioni o con il mondo degli spiriti e degli spettri. Non sono molto collegate alla natura. Penso quindi, caso mai, di approfondirle in un video a tema. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Vi aspetto nella sezione commenti per un po' di dibattito, confronto. Ditemi, secondo voi, qual è la creatura più pericolosa di tutte nel mondo di The Witcher. Se volete supportare le mie creazioni, potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure Paypal e TP. Sui social cercate Lorenzo Divus. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!